Cary Mulligan ha dichiarato che si è divertita parecchio durante il suo provino per il grande Gatsby doveva fare delle scene con Leonardo DiCaprio che però impersonava due personaggi passando da seduto e in piedi e cambiando anche voce l'attrice ha anche detto che quella situazione non ha aiutato molto il fatto di restare sedi durante il provino Grazie a tutti